Maestro Bue! Maestro! Il feroce Maestro Croc! E Maestro Bue infuriato! Non ci credo, stiamo salvando delle vere leggende del Kung Fu! Vi libereremo dai ceppi dell'ingiustizia, non c'è problema, ci sarà una chiave qui! No, non la lascerebbero qui! Oh bene, l'hai trovata! Fuori ragazzi, sì! Vediamo prenderti, Shen! Ragazzi, andiamo o no? Ci raggiungete più tardi? Ve la volete riprendere la vostra città, vero? Certo che vogliamo, ma se ci ribelliamo a Shen, lui rivolgerà l'arma contro la città! Chiarisci, ti proteggi la città di Gong Min o proteggendo la città di Gong Min? Se combattiamo tutti insieme... Allora l'arma ucciderà tutti quanti! Oh davvero? Allora faremo... Un'imboscata! Entreremo e poi... E poi sarete frenati! Dall'irrefrenabile arma! Niente irrefrenabile tranne me quando freno voi dal dire a me che qualcosa è irrefrenabile! Maestro Bue, io non vi lascerò in questa cella! Vorrei vedere come farai! Ah! Ragazzi avete visto? Si chiama Essere Mitici! Coraggio! Che fine ha fatto l'essere eroe? Il solo eroe in questa città è quello morto! Come ti ho detto, tu non mi tirerai fuori da questa cella! Sì! E' ora di arrendersi panda! Il kung fu è morto! Il kung fu è morto! Io... Il kung fu è morto! Benissimo! Restate nelle vostre prigioni di paura, con sbarre fatte di scoraggiamento e vi beccate tre bei pasti al giorno di vergogna! Con disperazione per Dessere! Noi affronteremo Shen e proveremo a tutti quelli che hanno fame di giustizia e di onore che il kung fu è ancora vivo! Siiii! 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 Ger tiro per위che esi! Esatrenfei vengano da altre contraste